Chianti Banca sostiene il Pistoia Blues Festival. Per la quarantesima edizione della rassegna al via il 5 luglio, l'istituto di credito è uno dei main sponsor, confermando una scelta già sostenuta nel 2018 e tre anni fa. Perché Pistoia è una di quelle realtà che compongono Chianti Banca, che si preoccupa di valorizzare e di promuovere le realtà culturali della città, oltre che culturali anche sportive. Ma questa occasione sembra importante per noi, per dare valore a questo territorio che purtroppo sa continuamente perdere rappresentanza in tanti aspetti. È un segno importante, prima di tutto perché è una realtà che lavora sul territorio, quindi credo che sia fondamentale per una manifestazione avere dei soggetti che oltre a essere partner, sponsor e sostenitori, siano anche legati alla città e a quello che succede in città. Quindi ci teniamo particolarmente al rinnovo di questa collaborazione perché appunto vuol dire che la manifestazione ha un radicamento forte anche proprio sulla città di Pistoia. Chianti Banca è a fianco a quella che è sostenere il Pistoia Blues, che ovviamente per quanto riguarda, mi permetto di dire, noi pistoiesi è un evento ormai classico per quanto riguarda la città di Pistoia. Abbiamo investito molto anche in quello che è lo sport. In particolar modo devo rilevare che già dall'anno passato abbiamo investito su quella che è l'atletica, tant'è vero che abbiamo una squadra di ben oltre 200 giovani che è impegnata in quelli che sono campionati provinciali e regionali, ma anche con ottimi risultati a livello nazionale. E poi su quelli che sono gli sport consueti che caratterizzano la città di Pistoia, quindi basket, calcio, ma anche il tennis.